Dopo due anni dal primo caso di Covid in Italia, anche Brindisi dedica un pensiero speciale al personale sanitario, con una giornata nazionale istituita dal Parlamento e che vede la sua seconda celebrazione. A dare il suo messaggio augurale è anche il neodirettore generale dell'AS di Brindisi, Flavio Roseto, che ha voluto ringraziare tutti i professionisti e gli operatori della sanità, impegnati ogni giorno su tutti i fronti per affrontare l'emergenza Covid e non solo, e che hanno lasciato in alcuni casi anche la propria vita. A due anni dal primo caso di Covid in Italia, vogliamo ricordare e ringraziare tutti gli operatori che sono impegnati in prima persona alla lotta alla pandemia, i medici, gli infermieri, i tecnici, gli operatori sanitari in genere, i volontari, gli ausiliari, anche gli addetti alle pulizie, che ogni giorno si impegnano con grande sacrificio nei reparti per poter dare una risposta ai pazienti che sono colpiti da questa malattia. Dobbiamo ricordare soprattutto anche le persone che non ci sono più, quelli che con grande dedizione hanno purtroppo lasciato la vita nelle parti. A loro va tutto il nostro ringraziamento.